Presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo il nuovo contratto di servizio che vincola l'azienda di igiene ambientale Asia al comune di Napoli. Sono stati illustrati i risultati di gestione del primo contratto sottoscritto nel 2013 messi a confronto con la situazione di 10 anni fa e con gli obiettivi del nuovo contratto che avrà la durata di 15 anni. Nel mese di gennaio la raccolta differenziata ha raggiunto il 40,1% contro il 13,9% del 2008 mentre ad oggi 483.000 cittadini sono raggiunti dalla raccolta porta a porta. Erano 87.000 nel 2008. Le isole ecologiche passiamo dalle 4 alle 8 attuali, arriveremo a 10 per il contratto ma soprattutto un grande incremento anche dei centri di raccolti itineranti sia per i rai che per gli ingombranti non mancando di ricordare gli appuntamenti gratuiti tramite il numero verde per quanto riguarda gli ingombranti e poterli mettere sotto casa. Sicuramente lo sforzo più importante del nuovo contratto è sull'igiene e sul decoro, sullo spazzamento. Qui anche grazie a città metropolitana è un investimento importante, nuove 20 spazzatrici piccole per l'igiene del suolo della nostra città di cui 10 elettiche come l'ultima abbiamo acquistato anche da poco tempo, nuovi cestini e sicuramente su questo è un servizio da migliorare aiutandosi anche con i commercianti e con una maggiore educazione sia sugli orari sia sulle tipologie di conferimento. Fra gli obiettivi del nuovo contratto l'adozione di modelli di raccolta più sostenibili per aumentare la differenziata e ridurre i costi. Così come abbiamo fatto con l'acqua pubblica, l'igiene urbana pubblica, tagliando tutta una serie di legami che come nel passato hanno creato dei problemi. Questa esperienza è dettata anche dai primi 5 anni di contratto di servizio, un nuovo contratto di servizio con degli obiettivi ambiziosi che sono il nostro impianto di compostaggio, altri impianti di compostaggio che dobbiamo individuare insieme ai cittadini, molto importante l'estensione del porta a porta, alle grandi strategie di un'igiene urbana che pensa anche a quello che sono i futuri sviluppo del lato perché è costituita anche il lato, una grande sinergia con gli altri comuni, lo sviluppo delle isole ecologiche e soprattutto un grande investimento nel chiudere tutta la parte del porta a porta delle periferie. Illustrata anche l'app di Asia che consente di conoscere per ogni rifiuto la giusta collocazione, segnala le isole ecologiche e territoriali e quelle mobili, i luoghi in cui lasciare elettrodomestici e rifiuti ingombranti, fornisce calendari, orari e numeri per i servizi e consente di segnalare gli sversamenti abusivi di rifiuti. Prossimi livelli da superare è l'inciviltà, noi dobbiamo fare una battaglia tutti quanti insieme perché nonostante una buona erogazione di servizio, voglio ricordare che noi abbiamo realizzato un campo di calcio in copertoni riutilizzati a Scampia, voglio ricordare che abbiamo un'impiantistica per la raccolta degli abiti usati che ha sottratto materiale alla terra dei fuochi. È possibile anche fare in modo che la comunità tutta intervenga con un'azione educativa contro chi per esempio lascia l'amianto fuori scuola. Basta attrezzarsi e chiamare i numeri giusti, basta semplicemente rivolgersi alle aziende sane ma non lasciare l'amianto fuori le scuole, oppure rispettare gli orari di conferimento, fare bene la raccolta. Spesso i cittadini vedono che in alcuni punti noi prendiamo i bidoncini e li mettiamo nell'indifferenziata, non perché imbrogliamo, è perché lì dentro c'era qualcosa che noi non possiamo mettere insieme al buono differenziato che teniamo già nella pancia del camion. Ecco, quindi una buona raccolta differenziata con il controllo dell'inciviltà aiuta anche perché il nostro obiettivo è quello di abbassare la tariffa di igiene urbana. A gennaio abbiamo raggiunto il 40% della raccolta differenziata, il porta a porta che aumenta, è previsto il diserbo, la pulizia nelle aree cimiteriali, il piano assunzioni che ho sottolineato adesso è importante perché l'età media mai si aggira intorno ai 60 anni, i finanziamenti per l'impiantistica, se riuniamo alla città metropolitana significa mettere in sicurezza tutta l'area metropolitana anche per il futuro, superare quella filiera esclusiva di una volta, inceneritori di scariche e cave, ma qui vediamo le compostiere di comunità, gli impianti di compostaggio, le isole ecologiche, il multimateriale, il secco, cioè andiamo a creare posti di lavoro, andiamo a rispettare l'ambiente e andiamo anche a rompere anche quella declinazione di chi però non vorrebbe far nulla.